salve a tutti e ben ritrovati dal vostro jo ci ritroviamo su genshin impact dopo un po di tempo mi scuso per l'assenza che ho comunque portato su questo titolo ma sapete tra gli impegni personali e tutto quello che diciamo ci impedisce di fare questa quarantena siamo tutti un po più vincolati a occuparci di altre cose detto questo volevo oggi parlarvi di un argomento abbastanza particolare nel mentre sono seduto e mi goto la musica e il panorama di questa mostad praticamente tematizzata per il festival spero che ovviamente vi stiate divertendo spero che ovviamente stiate passando della piacevole compagnia nel completamento e nella realizzazione dei minigiochi che sono presenti in questo festival che mio avviso devo essere sincero supera di gran lunga quello di live magari potreste dirmi anche cosa ne pensate voi detto questo oggi vi volevo parlare di una cosa in particolare però prima di dedicarmi all'argomento di oggi volevo semplicemente dire una cosa personale riguardo a tutto il gran casino che è successo da parte di mio oio della sicurezza eccetera eccetera a parte il fatto che l'80% delle persone che ha trattato l'argomento non sapesse neanche di che cosa si stia parlando e quindi questa è una prerogativa base probabilmente della cultura italiana io ho deciso letteralmente di dissociarmi dall'argomento non ho trattato l'argomento non lo tratterò volevo soltanto dirvi la mia opinione a riguardo che da un lato se volete fare i furbi è giusto che voi abbiate avuto questa punizione detto questo io chiudo l'argomento per quanto riguarda account hackerati account rubati account eccetera eccetera perché l'80% delle persone che è stata hackerata ha fatto dei movimenti ben sospetti detto questo non voglio aggiungere altro voglio semplicemente volevo semplicemente esprimere la mia opinione a riguardo quindi detto questo chiudiamo l'argomento l'argomento che invece voglio trattare oggi è un argomento abbastanza particolare è un argomento abbastanza particolare perché tratta fondamentalmente due argomentazioni che secondo me sono abbastanza importanti per quanto riguarda il festival di mostad innanzitutto partiamo dal presupposto che il festival di per sé è stato realizzato a mio avviso molto molto bene i minigiochi sono abbastanza divertenti anche se magari per la maggior parte delle persone non può essere così non viene vista in questa maniera per me invece devo ammettere che la situazione è decisamente migliorata rispetto ripeto al festival di live oggi vi voglio parlare grazie alla mia fischel che vi farà praticamente da assistente del nuovo arco il nuovo arco ovvero il windbloom odd un arco che è stato abbastanza criticato un arco che è stato analizzato testato e in un qualche modo contestualizzato nel rapporto danni e soprattutto nel rapporto in generale che concerne il gioco oggi ve lo voglio portare in una chiave diversa ho visto molta confusione nei gruppi che comunque frequento in generale anche su twitch ho notato che comunque qualcuno si è molto confuso a riguardo di quest'arco è un arco che comunque vi dico già essere free to play si avrà la possibilità di portare a refinement addirittura 5 quindi è un'ottima occasione per portarsi a casa un arco veramente veramente buono e vi dico questo proprio perché non solo c'è stato un piccolo errore di traduzione per quanto riguarda l'effetto che appunto viene utilizzato da quest'arco ma perché può essere utilizzato su diversi personaggi e avere una resa davvero eccezionale come potete vedere il mio già è a refinement 3 dato che comunque ho fatto i minigiochi ho fatto comunque sto comunque continuando l'evento e sto accumulando i ticket proprio per comprare gli oggetti di refinement per l'arco che tra parentesi spero possono essere introdotti anche per le altre armi anche le quattro stelle mi andrebbe bene però per le cinque sarebbe forse meglio chiusa parentesi è un arco molto particolare perché come potete vedere abbiamo praticamente la traduzione che nella nostra parte occidentale è stata resa con after using an elemental skill receive a boon from the ancient wish of the wine bloom increasing attack by x percentuale per sei secondi dove x percentuale sta appunto ad indicare la percentuale della statistica che in questo caso è l'attacco che viene incrementata con i vari refinement il tempo di incremento dell'attacco è sempre lo stesso quindi sempre sei secondi a prescindere dal refinement però l'incremento dell'attacco va ad aumentare in base ai nostri refinement detto questo c'è da dire che questo è un attacco a mio avviso molto molto valido molti lo hanno definito come una versione comunque low budget dello stringless però io personalmente non sono affatto d'accordo non sono affatto d'accordo perché è vero che la meccanica è simile ma ci sono delle differenze fondamentali io possiedo anche lo stringless quindi vi dirò fondamentalmente quelle che sono appunto le differenze partiamo subito dal fatto che la traduzione di quest'arco è stata non è stata corretta nella maniera giusta ovvero che cosa vuol dire vuol dire che quando viene scritto after using an elemental skill diciamo che il concetto può andare ad interpretazione e molti comunque lo avevano interpretato come giustamente scritto nella maniera che vediamo su schermo after quindi dopo aver utilizzato un elemental skill però dopo aver utilizzato un elemental skill che cosa vuol dire veramente vuol dire che tecnicamente almeno per quanto riguarda il concetto di after quindi del dopo aver utilizzato un elemental skill vuol dire che nel momento dove noi completiamo la nostra elemental skill riceviamo un bonus per quanto riguarda la nostra percentuale di attacco ebbene grazie appunto alla possibilità del reddit che in questo caso ci ha aiutato vi posto praticamente lo screen qui del reddit dove è stato appunto specificato ecco fatemela sistemare un attimo la finestra ecco che praticamente dopo aver analizzato meglio il discorso di quest'arco come potete vedere c'è stata una traduzione errata per quanto riguarda la passiva dell'arco infatti per quanto riguarda la passiva dell'arco noi abbiamo a schermo appunto after using elemental skill quello che viene riportato da questo ragazzo che ovviamente ci ha aiutato in questa traduzione errata dell'arco ci ha specificato che il la preposizione quindi il carattere che è stato detto come potete vedere sotto qui nella parte più in basso dove c'è scritto whatever there is an entirely accurate description of what the passive does è praticamente c'è stato un incredibile misleading quindi c'è stato un fraintendimento perché nella versione cinese la preposizione quella che viene utilizzata con after in realtà significa during quindi durante la nostra elemental skill e non after quindi che cosa vuol dire vuol dire che noi nel momento in cui utilizziamo l'elemental skill riceviamo il bonus dell'attacco e non dopo l'elemental skill questa è una cosa molto importante da sottolineare e da sfruttare per personaggi soprattutto come fischel o come altri personaggi che possono sfruttare al massimo questa passiva ecco perché oggi sarà fischel la nostra valletta che ci permetterà comunque di vedere effettivamente come funziona questo bonus innanzitutto partiamo dal fatto che la mia fischel ora come ora non è buildata non possiede artefatti non possiede niente è ancora a livello 50 e ci sei però devo ancora mettermi sotto nel farmare artefatti e farla come dio comanda ovviamente per una fischel c6 tendenzialmente si va a consigliare di più una build fisica dove ovviamente si sfrutta la capacità di fare l'electro damage bonus o in generale di fare più danni contro nemici elettrizzati tramite appunto il set del thunder shooter se lo ricordo male dovrebbe essere il thunder shooter dove appunto i danni vengono incrementati nei confronti dei nemici affetti da 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 thunder quindi dal dall'effetto appunto del tuono detto ciò questo è un arco che in realtà viene sfruttato molto di più da una fischel buildata prevalentemente sull'elemento perché sull'elemento perché non solo ci permette di fare più danni tramite l'elemental mastery quindi possiamo effettuare electro conduct possiamo effettuare overload possiamo effettuare tante di quelle reazioni che ci consentono di fare molti molti danni avendo elemental mastery come substats direi che fischel elementale con quest'arco diventa assolutamente un must ma non è soltanto questo il discorso il discorso è che se noi andiamo a vedere le varie costellazioni di fischel abbiamo praticamente un rapporto che varia costantemente in base all'attacco di fischel ovviamente non starò qui a farvi vedere tutte le varie costellazioni ma vi posso già dire così proprio a impatto che tutte le varie costellazioni hanno a che fare con l'attacco di fischel e dato che noi abbiamo un'arma che incrementa l'attacco di una tot percentuale è assolutamente perfetto e ripeto perfetto per una fischel fondamentalmente fondamentalmente elementale ma anche fisica potrebbe andar bene perché innanzitutto andiamo a vedere come funziona quest'arco e vediamo subito cerchiamo subito di capire il perché non può essere considerato come uno stringless in versione budget innanzitutto la statistica che viene aumentato viene aumentata in questo caso è l'attacco quindi quando viene aumentato l'attacco noi sappiamo che i danni prodotti dall'attacco vengono condizionati sul sulla base dell'elemental skill la burst e l'attacco fisico normale quindi l'attacco fisico bianco detto questo c'è anche da dire che l'attacco a differenza dello stringless quindi quando si viene ad aumentare l'attacco a differenza di uno stringless che aumenta il danno diretto di elemental skill e burst deve essere accompagnato da una buona dose di crit damage e crit rate quindi a differenza dello stringless che vi faccio vedere appunto sul mio 20 dato che comunque io considero lo stringless l'arco perfetto per quanto riguarda 20 tra l'altro lo possiedo a refinement numero 3 refinement 3 che già da un bonus addirittura del 36 per cento per quanto riguarda elemental skill e burst è un qualcosa di assolutamente fantastico ma qual è la differenza fondamentale la differenza fondamentale è che lo stringless a differenza del wind bloom odd da un bonus diretto quindi state molto attenti quando dico bonus diretto all'elemental skill e l'elemental burst quindi tralascia ovviamente quello che è l'attacco normale inoltre tralascia anche l'attacco in generale proprio perché i bonus si concentrano solo su queste due skill quindi elementale e burst e dando un danno diretto incrementando in più vanno bene quindi sono comunque delle dei potenziamenti che vanno bene a prescindere dal crit rate e il crit damage perché avere un potenziamento per quanto riguarda queste skill con dei talenti ovviamente a livello alto ci consente di fare molti danni anche senza bisogno del crit rate e crit damage è vero che con crit rate e crit damage andiamo ad incrementare i danni ci mancherebbe altro però a differenza del wind bloom odd ne possiamo tra virgolette fare a meno il wind bloom odd invece come potete vedere aumenta l'attacco per un tempo limitato quindi che sono sei secondi e soprattutto dopo aver effettuato l'elemental skill quindi non solo è consigliabile utilizzare quest'arco per chi utilizza comunque delle skill con un breve tempo di cooldown che a mio avviso 20 per esempio potrebbe essere perfetto dato che la sua elemental skill senza il tasto tenuto premuto dura veramente il cooldown di pochissimi secondi quindi gli consente addirittura di avere un boost permanente al suo attacco aumentato che potrebbe effettivamente farci comodo ma una fischel che ad esempio possiede quest'arco secondo me ne giova molto di più a parte il fatto che tutte le sue combinazioni con odds si basano sull'attacco di fischel quindi avere l'attacco aumentato ci consente di fare molti ma molti più danni e inoltre se una nostra fischel sfrutta il danno elementale aumentando l'electro damage bonus tramite una coppa e soprattutto tramite il set di artefatti ci consente veramente di rendere fischel un elementalista chiamiamola così appunto un personaggio elementale da veramente far paura vi faccio vedere però come funziona appunto questa diciamo questa passiva di quest'arco ora come potete vedere vi faccio vedere le statistiche della mia fischel possiede un attacco di 209 attacco di 209 dato appunto dal fatto di essere senza artefatti senza nulla equipaggiato a parte l'arma quindi a parte l'arco detto questo nel momento in cui ho libero odds vi faccio vedere che l'attacco aumenta e arriva già a 254 quindi non è after inteso dopo il completamento della skill ma after come appunto fatto vedere nell'immagine prima vuol dire nel momento in cui noi utilizziamo l'elemental skill quindi subito quindi appena noi liberiamo odds il nostro attacco viene già aumentato quindi noi già stiamo sfruttando la passiva dell'arco e non viene sfruttata dopo questa è una cosa molto importante perché si è creata abbastanza confusione per quanto riguarda diciamo l'utilizzo e anche per quanto riguarda lo sblocco di questa passiva nel momento in cui noi effettuiamo l'elemental skill devono passare 6 secondi per ottenere il bonus la cosa importante è che appena passano i 6 secondi vedete noi abbiamo praticamente perso il bonus in attacco ma la cosa figa soprattutto per chi possiede una fischel ac6 quindi a costellazione 6 e che quindi ha la possibilità di mantenere odds per qualche secondo in più sul terreno di gioco se si ricorda di farlo nel momento in cui spostiamo odds il bonus in attacco viene ridato quindi nel momento in cui noi effettuiamo l'elemental skill o ripristiniamo l'elemental skill riattiviamo il bonus ovviamente è un bonus che non funziona sulla burst quindi quando noi utilizziamo odds tramite la burst non avremo l'incremento dell'attacco ma non è quello il problema perché tramite la burst quindi tramite il fatto di mantenere praticamente odds costantemente sul terreno di battaglia noi possiamo cambiare la posizione di odds possiamo utilizzare odds e mantenere attivo quasi in modo permanente il bonus di attacco su fischel e il bonus di attacco su fischel soprattutto per quanto riguarda le combinazioni che possiamo fare con i suoi danni elementali è un qualcosa di pauroso infatti questo è un arco che io consiglio assolutamente da utilizzare su una fischel buildata prevalentemente sul danno elettro quindi buildata comunque come elementale e non come fisica anche perché una fischel c6 buildata prevalentemente fisica consiglierei molto di più un compound piuttosto che un windbloom odd il compound secondo me per una fischel fisica è assolutamente perfetta o comunque un rust un rust o personalmente parlando un compound bow sono le scelte che consiglierei assolutamente al 100% per quanto riguarda una fischel buildata fisicamente mentre invece il windbloom odd ve lo consiglio appunto per sfruttare una fischel elementale non è importanza che sia c1 c2 o c6 però l'importante è la build che le costruite attorno quindi fate molta attenzione veramente alla traduzione di questo di questa passiva perché ho notato che c'è stata diversa confusione all'interno delle community che seguo quindi non leggete la frase come after quindi dopo il completamento dell'elemental skill ma after in realtà deve essere tradotto in when quindi quando si utilizza un elemental skill quindi nel momento in cui voi utilizzate l'elemental skill prendete già la passiva ecco perché a mio avviso questo è un arco che su tartaglia non va assolutamente bene molti lo volevano utilizzare su tartaglia ma a questo punto io vi sconsiglio di utilizzarlo dato che avreste il bonus d'attacco soltanto per i primi 6 secondi e poi resterete praticamente con un arco a fare danni praticamente normali quindi non avreste più l'incremento di quel bonus mentre invece personaggi che hanno un cooldown più o meno più o meno rapido ora fischel non ha un cooldown rapidissimo di odds questo è vero però considerate che se buildate se buildate facilmente comunque fischel con un energy recharge decentemente avete la possibilità di spammare odds in continuazione sia tramite le mental skill sia tramite la burst quindi avrete comunque la possibilità di gestire bene il vostro fattore di danno elementale altro personaggio che potrebbe sfruttare quest'arco benissimo e 20 se non avete lo stringless questo secondo me è un arco che fa al caso vostro quindi potreste veramente sfruttarlo anche su 20 come arco free to play reputo che sia abbastanza forte però come vi ho detto prima a differenza dello stringless accompagnate il vostro venti con un buon numero di crit rate e un buon numero di crit damage per permettere al bonus di attacco di farvi fare dei bei danni se avete lo stringless ovviamente date lo stringless al vostro venti che ne gioverà in una maniera assolutamente fantastica detto questo spero che questo video possa esservi stato utile fatemi sapere se già eravate a conoscenza di questo errore di traduzione per quanto riguarda quest'arco fatemi sapere anche se lo avete già preso se lo avete refinato e a che quale personaggio l'avete consegnato detto questo io vi ringrazio spero che questo video vi sia stato utile da jo dalla mia assistente fischel e da odds è tutto e io vi aspetto come sempre alla prossima bye bye